Musica Carabiniere ucciso, il GIP si riserva, restano in silenzio davanti al giudice i due giovani americani fermati per l'omicidio del brigadiere di Somma Vesuviana. La rabbia del sindaco marciscano in galera. Lunedì i funerali con Fico e Di Maio. De Luca a Giffoni, premiati vincitori, un evento che educa i giovani e promuove la regione campagna nel mondo, così il governatore in visita al festival del comune salernitano. Intanto stabiliti i film vincitori della 49esima edizione della Kermess. Muore prima del parto, scatta l'inchiesta a Sapri, sono sette le persone indagate, tra medici e infermieri dell'ospedale Immacolata nel salernitano per la morte di una bimba prima del parto. I genitori della piccola hanno sport o denuncia alla procura di Lago Negro, che ha aperto un'inchiesta. Differenziata a Benevento parte il nuovo piano. Al via a breve nel capoluogo sannita una nuova campagna di sensibilizzazione per il porta a porta. Ad annunciarlo la presidente della Commissione Ambiente, Lombardi, sarà un progetto capillare che riguarderà anche scuole e uffici pubblici. Radici e ali per volare, il primo pannetto di festa. Il sindaco di Avellino lancia un duplice messaggio alla città, recuperare le origini ma con lo sguardo rivolto al futuro. E il Vescovo Aiello lo incoraggia, oggi è difficile amministrare. Intanto dalla Toscana all'Irpinia per l'omaggio a Sant'Anna. Buonasera, ben ritrovati. Questi erano i nostri titoli. 8 Channel News, canale 696. E allora, in apertura, i due americani fermati per l'omicidio del carabiniere di Somma Vesuviana non rispondono alle domande del giudice. Ancora nessuna convalida per il fermo. Domani la camera ardente nella cappella di Piazza Monte di Pietà. A pochi passi dalla caserma del vicebrigadiere. E lunedì i funerali alla presenza di Fico e Di Maio. La rabbia del sindaco di Somma marciscano in galera. Gli assassini, vediamo il servizio. Si è riservato di decidere il GIP di Roma a Chiara Gallo in relazione alla richiesta di convalida del fermo di Elden Finegan Lee e Christian Gabriel, i due americani accusati del delitto del carabiniere di Somma Vesuviana. Nella stanza dell'albergo dei due giovani sono stati ritrovati un coltello di notevoli dimensioni, sporco di sangue nascosto dietro a un pannello del soffitto e i vestiti indossati durante l'aggressione. Uno dei due ha ammesso le proprie responsabilità, affermando di essere stato lui l'autore materiale dell'accoltellamento. Non pensavo fosse un carabiniere, avevo paura di essere nuovamente ingannato, ha dichiarato Elden Finegan Lee. La camera ardente del vicebrigadiere sarà allestita domani nella cappella di Piazza Monte di Pietà dalle 16 alle 20 e 30, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri di Piazza Farnese, dove da anni il militare pestava servizio. I funerali, invece, saranno celebrati lunedì alle 12 a Somma Vesuviana, nella chiesa di Santa Croce, in via Santa Maria del Pozzo, la stessa dove un mese e mezzo fa il carabiniere si era sposato. Spero marciscano in galera per sempre e chiedo alle autorità giudiziarie di essere quanto più intransigenti possibili con questi individui che hanno ucciso il giovane d'oro, ha detto il sindaco di Somma, Salvatore Di Sarno. Anche il ministro, Matteo Salvini, è ritornato sul caso, dicendo sperando che l'assassino del nostro povero carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte. Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita, questo sì. Cambiamo argomento. La protezione civile della regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo valevole dalle 6 di domani mattina alle 20 di domani sera. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, interesseranno buona parte del territorio. Sono escluse le zone del Tanagro e del Basso Cilento, dove espireranno comunque venti moderati o forti occidentali con possibili raffiche e il mare si presenterà agitato. Un evento che educa i giovani e promuove la regione Campania nel mondo. Così il governatore Vincenzo De Luca, in visita al Festival del Comune Salernitano di Giffoni, intanto stabiliti i film vincitori della 49esima edizione della Kermess. Il Festival del Cinema di Giffoni come uno degli eventi più importanti della regione Campania. Entusiasta il governatore Vincenzo De Luca alla cittadella del Comune Salernitano dei Picentini dopo la visita alla Multimedia Valley, un evento vivace e importante che educa i giovani, ha detto il Presidente, e anche una vetrina per la Campania. Offrire al mondo intero l'immagine più bella che abbiamo della nostra regione, dei nostri luoghi d'arte. Abbiamo appena terminato le universiadi, abbiamo fatto uno sforzo enorme per sottolineare la bellezza di questi luoghi, per creare un movimento turistico importante, per creare economia. Giffoni è dentro questo filone. La regione Campania è la regione più giovane d'Italia e devo dire che oggi la Campania è probabilmente la regione più stimolante d'Italia. Il problema chiave che abbiamo qui in Campania è ovviamente il lavoro giovanile. E qui abbiamo fatto partire un esperimento che è unico in Italia, un piano per il lavoro per 10.000 giovani. De Luca ha lasciato Giffoni con un monito ai ragazzi. Dobbiamo insegnare ai nostri giovani, ha detto, il senso della realtà, con la creatività che si coniuga, con il senso del realismo, si possono fare grandi cose. Come Giffoni da 50 anni insegna, intanto dopo giorni di proiezioni e dibattiti, assegnati dai 6.200 giurati, i film vincitori del Festival del Cinema dei Ragazzi, Rocka Change the World dalla Germania, Teacher dall'India, Blinded the Light per il Regno Unito, Junt Little One dal Canada, The Place of No World dagli Stati Uniti, vincitore della sezione Jack's Docks in The Name of Your Daughter. Avrebbero estorto denaro a una pizzeria del centro storico di Napoli nella zona dei Tribunali per agevolare le attività del clan camorristico Mazzarella, che dopo i recenti arresti dei membri del clan rivale dei Sibillo ha rivolto il suo interesse operativo anche su questa parte del territorio cittadino. Tre persone di età compresa tra i 19 e i 39 anni sono state arrestate dai carabinieri. L'attività di indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, è scaturita a seguito di numerosi episodi di intimidazione che si sono susseguiti nei primi mesi dell'anno nei confronti delle pizzerie del centro storico, che ha visto in particolare una collaborazione delle vittime e delle estorsioni con le forze dell'ordine. Uno degli indagati è stato rintracciato sull'isola di Procida, luogo che frequenta abitualmente da qualche anno. Ancora cronaca sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del piccolo Davide, annegato in una piscina di Lucrino nella zona flegrea di Napoli. Ancora troppi punti da chiarire, intanto la procura si concentra su proprietario, animatori e genitori. Per loro l'accusa potrebbe essere omicidio colposo. Vediamo. Sarebbero pronti gli avvisi di garanzia per la morte del piccolo Davide, annegato nella piscina del Cora di Lucrino mentre si festeggiava un matrimonio. Si va dal proprietario del locale ai due animatori che hanno provato a salvarlo, fino ai genitori ancora straziati dal dolore. Omicidio colposo sarebbe la pista abbattuta in queste ore nell'inchiesta condotta dal PM Michele Caroppoli. Al momento sono queste le persone su cui si concentrano le indagini giudiziarie, per una tragedia comunque dai contorni ancora poco definiti. Resta poco chiaro infatti se il bimbo sia morto per una congestione dopo essersi tuffato in acqua a stomaco pieno, se sia caduto in acqua accidentalmente o se si sia tuffato in piscina per seguire altri bambini. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo che potrebbe fare chiarezza. Intanto sembra che il proprietario della struttura nel corso della festa abbia richiamato più volte i bambini a non tuffarsi in piscina, ribadendo che la piscina era chiusa e il bagno tutt'altro che autorizzato. Il Cora resta comunque sotto sequestro, annullate tutte le feste programmate e spostate in un'altra struttura, ma a Lido Napoli, che lo ospita, le attività vanno avanti tra musica e animazione, anche se non si parla d'altro che della tragedia del piccolo Davide. A Maddaloni, dove vive la famiglia del bimbo, che avrebbe compiuto quattro anni a ottobre, si è deciso di organizzare per stasera una fiaccolata che partirà dalla chiesa dell'Annunziata. Sono sette le persone indagate tra medici e infermieri dell'ospedale di Sapri, nel Salernitano, per la morte di una bimba prima del parto. I genitori della piccola hanno sporto o denuncia alla procura di Lago Negro, che ha aperto un'inchiesta. Ascoltiamo i dettagli. È morta prima di venire al mondo, alla 41esima settimana di gravidanza, nell'ospedale del comune salernitano di Sapri. Dramma per una coppia di lentiscosa, che mentre si preparava ad un momento di grande gioia, è piombata nel dolore più forte, perdendo la propria figlia, il cuore della piccola. Per motivi ancora da chiarire, ha infatti smesso di battere. La donna, che si trovava ricoverata nel nosocomio immacolata del comune cilentano, ha dovuto partorire un corpicino ormai senza vita. La coppia ha così deciso di presentare denuncia alla procura di Lago Negro, che ha aperto un'inchiesta sul caso. Sono sette le persone indagate, tra medici, ostetriche e infermieri. Erano tutti in servizio nel reparto di ostetricia e ginecologia, quando si è verificato il decesso, l'ipotesi di reato e omicidio colposo. Coinvolto anche il ginecologo, che ha seguito la donna durante tutta la sua gravidanza. Intanto si aspettano i risultati dell'autopsia sul corpicino della bimba, che chiariranno finalmente le cause della morte, avvenuta il 14 luglio scorso. Torniamo a parlare dei napoletani scomparsi nel Messico. Sono state ammesse le prove al processo contro quattro poliziotti, soddisfatta la famiglia che lotta ancora per avere la verità. Tutte le prove ritenute fondamentali, raccolte dagli inquirenti e condivise dalla nostra difesa, finalizzate a cristallizzare il coinvolgimento dei poliziotti, sono state accolte dal giudice. E quanto fa sapere l'avvocato Claudio Falleti, uno dei legali delle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico, che attraverso un collega dell'Organizzazione Mondiale degli Avvocati sta monitorando lo svolgimento del processo preliminare a carico di quattro agenti della polizia di Tecalitlan, ritenuti coinvolti nella sparizione dei tre connazionali, di cui non si hanno più notizie dal 31 gennaio 2018. Gli avvocati, ha detto ancora il legale, vogliono dimostrare le stranità dei loro clienti ai fatti contestati, ma con una condotta ostruzionistica. È stata chiesta l'ammissione di una ventina di testimoni per ciascun poliziotto. Una strategia processuale assurda, sostiene l'avvocato Falleti. Inoltre, le prove raccolte a carico degli agenti municipali dagli audio di Antonio e Vincenzo, decisamente eloquenti, ai tracciati precisi e inconfutabili del GPS, al ritrovamento delle auto, sono schiaccianti. Per Falleti, la procura di Alisco sta dando un forte segnale e sembra intenzionata a confermare tutti i capi di imputazione contestati. Speriamo che il dialogo con le autorità messicane continui non solo all'interno delle aule dei tribunali, ma anche a livello politico, perché a vendere i nostri connazionali a dei narcos sono stati dei poliziotti e non gente comune. Pertanto, il governo messicano deve considerare realmente la gravità della vicenda. Quelle che vedremo tra un attimo sono le immagini di stamattina di Piazza Libertà ad Avellino, ripulita con mezzi speciali solo l'altro ieri. Un cittadino, l'altro giorno, aveva commentato i lavori di pulizia straordinaria ed aveva già previsto quanto accaduto questa notte. Vanno bene queste opere di manutenzione, ma non servirà a nulla perché ci sarà sempre qualche vandalo che imbratterà la piazza. Servono invece più controlli. E come non detto, questa mattina Piazza Libertà si presentava più sporca di prima. In alcuni angoli cartoni abbiamo visto di pizze lasciate a terra, olio cosparso sui lastroni, rifiuti di ogni genere e non sono mancati i graffiti e le scritte. Insomma, un segno di inciviltà assoluta rispetto al quale bisognerebbe prendere provvedimenti, la piazza anche stavolta è stata prontamente ripulita. Raccolta differenziata partirà presto a Benevento una nuova campagna di sensibilizzazione ad annunciarlo alla Presidente della Commissione Ambiente, Lombardi, che precisa sarà un progetto capillare che riguarderà anche scuole e uffici pubblici. In Batedesco. Partirà presto a Benevento una nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, una campagna capillare che riguarderà scuole ed uffici, ma che coinvolgerà i cittadini anche in occasione di eventi pubblici. È la Presidente della Commissione Ambiente del Comune, Romilda Lombardi, infatti, ad annunciare l'avvio di nuove iniziative per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di effettuare correttamente la separazione dei rifiuti. L'ultima campagna di sensibilizzazione, ricordiamo, al Comune c'è stata nel 2010 e quindi è giunto il momento di ricordare ai cittadini come funziona, come deve funzionare correttamente la raccolta differenziata. Infatti partirà già dal 25 agosto con la Città Spettacolo una iniziativa proprio del CONAI, a cui si è affidata l'Asia, con delle brochure che verranno distribuite nei luoghi di maggiore interesse culturale di Benevento, verranno appostati degli stand e verranno quindi distribuiti dei volantini con le norme per un corretto conferimento dei rifiuti. Questa campagna di sensibilizzazione inizierà nelle scuole a settembre, poi negli uffici della pubblica amministrazione. Si punta così a tenere alta l'attenzione sull'importanza della raccolta differenziata. La campagna, pertanto, sarà affiancata anche da altre iniziative come le giornate di sensibilizzazione che proseguiranno nei quartieri cittadini. Il calendario stilato prevede sia una chiusura al traffico di un quartiere, sia anche una giornata di sensibilizzazione. In questo ci aiuteranno i comitati di quartiere. In piazza d'Avellino anche quest'anno migliaia di persone per il tradizionale rito dell'alzata del pannetto di Sant'Anna. Il sindaco festa, dobbiamo recuperare le nostre radici, ma guardare in alto. Il Vescovo Aiello lo incoraggia perché oggi, dice, è difficile amministrare. Vediamo. Era particolarmente emozionato il sindaco festa accanto al Vescovo Aiello nel suo primo pannetto, l'omaggio alla Madonna dell'Assunta in Piazza Libertà che apre le festività per il Ferragosto Avellinese. Oggi lancio un duplice messaggio, recuperare le nostre origini, ma con lo sguardo rivolto verso l'alto. Bisogna spiccare il volo, tornare a sognare, dare speranza a questa comunità e anche osare. Noi siamo molto migliori di quello che a volte pensiamo di essere e dobbiamo essere convinti che col sacrificio, con l'impegno, col lavoro e con la dedizione possiamo raggiungere qualsiasi risultato. Dobbiamo lavorare per essere uniti. C'è una maggioranza che ha l'onere di governare, ma saremo anche attenti alle proposte della minoranza. Auspico un clima di collaborazione, a prescindere dico che è una grandissima squadra, coesa, forte, preparata. Poi due passaggi. Il primo sulla nomina del nuovo commissario del PD Irpino, Aldo Cennamo. Cercherò di dare anche una mano al commissario e al partito affinché possa riprendersi, ma il mio principale, quasi unico obiettivo è governare bene la città, come mi hanno richiesto gli avellinesi e come meritano che sia. E l'altro sulla braccia di qualche giorno fa in regione con il presidente De Luca. Il governatore, anche se prima persona è stato un po' lontano da questa competizione, avrà anche notato che parte della sua squadra si è schierata contro di me e probabilmente ha maggiormente apprezzato la mia vittoria e quella della mia squadra. C'è stato, credo, un gesto attraverso cui ha riconosciuto la grande vittoria, la grande impresa che abbiamo compiuto e credo che a volte i gesti parlino più delle parole. In precedenza, Monsignor Aiello, quasi da buon padre di famiglia, aveva rivolto una carezza a festa anche a nome dei suoi concittadini. Voglio incoraggiarlo perché oggi è difficile amministrare. Si attende l'ok ufficiale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per dichiarare salvo l'ospedale di Sant'Agata dei Goti. Nel Sannio il Comitato Civico però annuncia non abbasseremo la guardia. Maria Teresa De Lucia. Si attende il via libera ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per dichiarare salvo l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguari di Sant'Agata dei Goti. Sembra giunta al capitolo finale la lunga lotta che da quasi un anno la comunità sanita porta avanti per evitare lo smantellamento del presidio sanitario. Il nuovo decreto della Regione Campania aveva riprogettato le funzioni dell'ospedale lasciando praticamente intatte tutte le specialità che al nosocomio erano già affidate. Ora, finalmente, l'intesa tra la Regione Campania e il Ministero della Sanità ed il MEF che ha ridisegnato la geografia della sanità campana. È il risultato di una lotta aspra, spiega il Comitato Civico Spontaneo. Curiamo la vita che si è battuto per il risultato ed ora fa il punto e rilancia. Volevamo sapere cosa era successo al MEF. Sembra che la firma ci sia stata però noi aspettiamo l'ufficialità dei documenti gli atti ufficiali. Noi sicuramente non abbassiamo la guardia. Questo ospedale è importantissimo. Quando siamo stati in tenda abbiamo visto con i nostri occhi quanta gente accorreva sia in pronto soccorso e sia venivano ricoverati. Io sono una mamma sono una cittadina che non si è girata dall'altra parte insieme a me anche le altre persone del Comitato. Alla fine non abbiamo secondi fini. Il Comitato diventerà associazione e quindi vigilerà sull'ospedale. In occasione della giornata mondiale della sindrome di Sjögren le associazioni di pazienti dall'incontro al grande hotel di Salerno rilanciano la loro battaglia e cioè far entrare la patologia nell'elenco delle malattie rare. Sara Butte. Convivere con una patologia degenerativa e invalidante facendo i conti anche con carenze assistenziali è quanto lamentano le persone affette dalla sindrome di Sjögren malattia autoimmune sistemica che attacca le mucose dell'organismo. A Salerno il convegno in occasione della giornata internazionale che ricorre il 23 luglio le associazioni di pazienti si sono confrontate con rappresentanti della comunità scientifica e istituzioni portando avanti la propria battaglia affinché la sindrome sia riconosciuta come rara. Questo riconoscimento diventa addirittura indispensabile per assicurare quello che può essere il bagaglio terapeutico che è ampio e costoso. Ci sono le forme più gravi che generalmente coincidono con la necessità di molti presidi e il costo di questi presidi è veramente elevato. Penso che sia un dovere dello Stato è un dovere nostro assicurare a questi malati un supporto da un punto di vista di rimborso per le spese sanitarie che vanno a sostenere. La nostra lotta sta durando da circa 15 anni ci auguriamo che oggi non sia solo una celebrazione ma che da questa giornata nascano veramente collaborazioni costruttive tra le varie stakeholder presenti oggi lavorare a un supporto su una patologia che a prescindere la rarità è cronica. Il punto centrale per questo riconoscimento secondo le disposizioni che esistono in Italia è quello di documentare da un punto di vista della frequenza della malattia che sia al di sotto di una certa soglia che consente poi di avere questa etichetta di malattia rara. Ora andiamo nella valle del Cervaro dalla Toscana all'Irpinia per rendere onore a Sant'Anna a raduno di emigranti nel segno della fede a Savignano Irpino Gianni Vigoroso. Sant'Anna e i savignanesi un legame troppo forte indissolubile uno dei momenti più attesi in Irpina nella valle del Cervaro che richiama a sé emigranti e tantissimi devoti della Santa protettrice delle mamme delle partorienti e sono proprio le donne a portare a spalla la statua in processione. Sant'Anna è una figura che ci riporta a questo legame tra le generazioni alla vita all'ascolto al rapporto all'interno della famiglia quella umana ma anche quella direi naturale fondata sul matrimonio a necessità soprattutto di saper raccogliere un patrimonio di fede. Tanta gente come ogni anno persone che arrivano da ogni parte l'Italia pullman organizzati anche quest'anno dai nostri savignanesi che vivono a Prato per stare vicino e celebrare così questa cerimonia solenne. Siamo legatissimi naturalmente a Sant'Anna io in particolare essendo casertano la devozione a Sant'Anna è qualcosa di incredibile veramente molto molto sentita. È tutto per quanto riguarda il TG News di stasera grazie in regia ad Orlando Matarazzo vi auguro una buona serata arrivederci. a Sant'Anna Grazie a tutti.